Sul Mona Pulita siamo noi, questa è l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per le giornate del fine settimana, sabato 22 e domenica 23 ottobre. L'evento di volontariato civico è stato proposto dall'assessore all'ambiente Katia D'Inisio e dal consigliere provinciale comunale Antonella Lagatta. Queste le aree individuate, nelle quali i volontari presteranno la loro opera, centro storico, quartiere Porta Napoli, area tribunale Cappuccini, viale delle metamorfosi, stazione centrale. L'obiettivo non è solo quello di restituire pieno decoro a diverse zone cittadine, ma soprattutto di sensibilizzare la cittadinanza alla cura della città come casa comune, anche con questi piccoli gesti. Accanto ai servizi di competenza comunale è importante che la città sia tenuta pulita, anche grazie alla collaborazione quotidiana, fattiva e costante dei cittadini. I punti di ritrovo per la consegna del materiale sono i seguenti. Le due giornate saranno momenti di cittadinanza attiva, con un coinvolgimento pieno dei cittadini che si attiveranno nel riparare il cattivo comportamento civico di altri, che per fortuna restano una minoranza. Inoltre chiederò ai cittadini che partecipano di fotografare luoghi impensabili dove i rifiuti vengono abbandonati, sia nelle periferie cittadine che nello stesso centro storico. In passato, anche di recente, sacchetti o cumuli di rifiuti sono stati rinvenuti, infatti, accanto a infrastrutture, parcheggi, monumenti, fontane storiche. Indecenze che vanno decisamente eliminate, accrescendo in tutti senso di responsabilità e civismo a tutela della casa comune che è la nostra città, afferma l'assessora comunale, Catea D'Inisio.